Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Quest'oggi parleremo dei video cosiddetti verticali, ovvero quei video realizzati con il cellulare e che vengono impiegati per creare Instagram Stories o contenuti multimediali da condividere sui principali social network. Vedremo come realizzarli correttamente in Premiere, vedremo anche come adattarli alle nostre esigenze nel caso in cui noi ci trovassimo alle prese per esempio con un documentario o con un film e nel caso in cui dovessimo lavorare dei video realizzati con il cellulare in verticale. Prima però vi ricordo, se vi fa piacere, di venirmi a trovare sul sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco completo di tutte le lezioni di questo corso oltre ad altri video tutorial dedicati al mondo dell'audiovisivo. Se vi fa piacere ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube, bando alle ciance e cominciamo subito. Dunque oggi parleremo come detto dei video realizzati, girati, prodotti in verticale con gli smartphone, con i cellulari. Sempre più persone girano video amatoriali, sempre più persone condividono i video sui social network e quindi è sempre più probabile dover lavorare o produrre dei video appunto adatti a questi dispositivi. Molti montatori video, specie coloro che lavorano per esempio con l'informazione, pensate ad un giornalista o un videomaker che deve raccontare, non so, una tragedia, come può essere un attentato terroristico o un terremoto, e deve utilizzare dei video amatoriali prodotti appunto con il cellulare. Ecco, questi video spesso sono girati in verticale e però il montatore video, l'operatore video, deve adattarli ad un frame tradizionale, quindi per esempio un frame in HD o un frame a 720. Abbiamo già parlato dell'importanza della risoluzione del video, del contenuto multimediale nelle prime lezioni di questo tutorial. Vi dicevo sempre, è una lezione abbastanza noiosa, però seguitela con attenzione perché vi farà comodo. Ecco, questa è la lezione in cui quello che abbiamo imparato nei primi tutorial di questo corso tornerà molto molto utile. Intanto cerchiamo di capire cos'è un video verticale e come riconoscerlo, no? Noi qui abbiamo un video girato con il cellulare, vedete che abbiamo delle barre nere ai lati. Quando visualizziamo dei video verticali su un player tradizionale piuttosto che in Premiere, di primo acchitto se lo mettiamo in una timeline normale, quindi per esempio questa è una timeline a 1920 pixel di larghezza per 1080 pixel in altezza. La prima cosa che notiamo sono queste, chiamiamole barre nere, ma anche se poi in realtà non sono vere e proprie barre nere. In realtà non c'è niente qui e quindi Premiere mi mostra questo video come se fossero presenti delle barre nere. Però dicevo, come avere la certezza che il video che stiamo lavorando è un video girato con il cellulare, quindi in verticale. Ecco, una volta importato il nostro contenuto, se cliccate sul nome del nostro file, della nostra clip e se avete abilitata quest'area, l'area di anteprima video, vedete che tra le caratteristiche del nostro video c'è qualcosa che non va, ovvero le dimensioni dell'altezza e della larghezza del nostro fotogramma sono invertite. Questo è un video che probabilmente in origine sarebbe dovuto essere 1280 pixel in orizzontale per 720 pixel in verticale, ma guardate qua, troviamo subito 720x1280, vuol dire che questi due valori sono stati invertiti e il video come potete vedere qui dall'anteprima, provo adesso ad ingrandire per mostrarvelo meglio, eccoci qui, come potete vedere l'anteprima del fotogramma, ci mostra come questo video, il video vero e proprio, in realtà sia questo al centro, quindi un video verticale e, come dicevo, le due proporzioni, le due dimensioni sono invertite. Questo già è un ottimo indizio del fatto che il video su cui stiamo lavorando è un video verticale e non un classico video orizzontale. Se non vedete quest'area di anteprima nel pannello progetto, basta cliccare su queste tre lineette vicino al punto al nome del nostro progetto e attivare chiaramente la voce area di anteprima. Potrete trovarvi per capirci in questa situazione dove non vedete nessuna anteprima e nessuna informazione, cliccando sul menu del nostro pannello progetto abilitate la voce area di anteprima e automaticamente avrete delle informazioni importantissime, aggiuntive, sulla clip video che stiamo lavorando. Se io facessi doppio clic sull'iconcina dell'oggetto multimediale, come già abbiamo visto in altre lezioni, vado ad aprire la clip video nel nostro monitor di anteprima e qui abbiamo un'altra conferma del fatto che il video che stiamo lavorando è in realtà un video verticale. Vedete che non ci sono più le barre nere perché il monitor di anteprima mi mostra il video per quello che è, quindi un video verticale. Vedete, il video vero e proprio è questo, praticamente è come, in realtà è proprio andata così, l'operatore che ha ripreso questo video ha tenuto il cellulare in verticale, non ruotandolo in orizzontale, molto probabilmente non aveva abilitata l'opzione sul cellulare della rotazione automatica, anzi no, probabilmente aveva proprio abilitata l'opzione sul cellulare per la rotazione automatica e quindi il cellulare ha capito che l'operatore stava tenendo il cellulare in posizione verticale e ha adattato la registrazione del video alle condizioni ambientali in cui si stava registrando. Se l'operatore non avesse attivato sul cellulare la voce rotazione automatica, probabilmente il video sarebbe stato orizzontale ma chiaramente l'immagine sarebbe stata capovolta. Non so se mi sono spiegato. Fate le prove col vostro cellulare e sicuramente questa cosa vi sarà molto più chiara. Ma per il nostro scopo, per lo scopo di questo tutorial, quello che ci interessa sapere è che questo a tutti gli effetti è un video verticale che noi potremo anche condividere su Instagram per esempio perché per le Instagram Stories, se non ricordo male, bisogna lavorare proprio in questo modo, quindi creare dei video verticali. Qual è il problema? Il problema è che se io prendo questo video e lo porto nella timeline, in una timeline tradizionale, quindi creata in maniera appunto tradizionale come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, ci troveremo a lavorare con un fotogramma, questo qui, che ha le caratteristiche diciamo orizzontali del video. Quindi questa è una sequenza creata con la grandezza, la risoluzione del fotogramma a 1920x1080. Questo è quello che succede. Se io adesso andassi ad ingrandire lo spazio per mostrarvi qual è la situazione reale, vediamolo subito, vedreste che il video in realtà è questo qui, lo resetto alle dimensioni originali, eccolo qui, vedete che il video in realtà è questo al centro, ma il fotogramma è comunque sempre pieno alla risoluzione che noi gli abbiamo indicato, quindi 1920x in orizzontale e 1080x in verticale. La prova del 9 qual è? la prova del 9 se ancora ne avessimo bisogno la abbiamo abilitando la griglia trasparenza qui c'è la voce griglia trasparenza di cui abbiamo già parlato in un altro tutorial e vedrete che in realtà il video è quello al centro e il resto è semplicemente uno spazio vuoto niente di male, noi potremmo tranquillamente esportare un video del genere e ci troveremo un video orizzontale con due belle barre nere ai lati però spesso può essere utile magari riempire questo nero con qualcosa per dare non so che di esteticamente più accettabile al nostro contenuto multimediale come si fa l'operazione che stiamo facendo è quella di creare una cornice al nostro video verticale in altre parole io andrò a prendere lo stesso video lo duplicherò lo renderò grande quanto il mio fotogramma e sfocherò l'immagine in maniera tale da avere l'immagine vera e propria davanti e l'immagine sfocata dietro che ricopre tutto il fotogramma ecco si fa prima a farlo che a dirlo in realtà come come procedo innanzitutto tolgo la selezione collegata perché io andrò a lavorare in questo caso solo con il nostro con la nostra traccia video tenendo premuto il tasto alt sulla tastiera e trascinando il video verso l'alto come abbiamo già visto in precedenza vado a duplicare la mia traccia video ok quindi contro z e vi faccio rivedere da capo tengo premuto il tasto alt sulla tastiera e trascino la clip video verso l'alto in modo da spostarla teoricamente su un'altra traccia in realtà tenendo premuto il tasto alt sulla tastiera la vado a duplicare quindi io mi troverò ad avere due tracce identiche una sopra all'altra qui nel mio monitor di anteprima nel monitor programma non noto nulla di diverso perché perché in realtà questi due video sono uno su questi due video queste due tracce video sono una sopra all'altra e quindi chiaramente non noto nulla di diverso ma se io vado a selezionare la traccia sottostante per capirci quella che è dietro ok e la vado a scalare quindi vada ad ingrandirla vado a modificare la proprietà scala nel mio pannello controllo effetti vedete che automaticamente il video che è dietro diventa più grande e va ad occupare l'intero l'intero fotogramma ecco posso fare questa operazione e posso fare un'altra cosa per rendere la situazione meno caotica meno confusionaria posso andare nel menu effetti scegliere l'effetto sfocatura gaussiana ne abbiamo già parlato della sfocatura gaussiana nello scorso tutorial quando abbiamo visto come sfocare i volti delle persone che compaiono nei nostri video trascino l'effetto sfocatura gaussiana sempre sul video sottostante perché noi stiamo lavorando lo ricordo sul video che sta dietro quindi trascino questo video questo effetto video di sfocatura sul video sottostante sul video dietro aumento chiaramente il valore della sfocatura vedete che io sto sfocando l'immagine che è dietro in altre parole ho tolto il nero che era presente nel video originale o meglio che era presente nel frame originale di questo di questa sequenza e ho fatto quello che vedete spessissimo fare in televisione piuttosto che su molti siti di informazione ho creato chiamiamola così anche se è sbagliato una cornice che va a diciamo a contornare il video originariamente caratterizzato da due barre da due barre nere posso se vogliamo fare una cosa ancora più più elaborata aggiungere anche una piccola ombra a questo video principale per fare in modo che si stacchi leggermente dallo sfondo basta cercare ombra tra gli effetti video vedete qui che abbiamo subito la ombra esterna la applico sempre al video superiore questa volta non al video inferiore perché chiaramente l'ombra la vado ad inserire sul video principale vedete che già è comparsa una leggerissima ombra esterna vado a modificare i parametri in maniera da renderla ancora più evidente vedete vado a dare un po di morbidezza aggiuntiva a questa ombra ed ecco che diciamo che il video principale su cui ho applicato l'ombra chiaramente non è più attaccato allo sfondo ma viene quasi insomma sollevato c'è un minimo un minimo di prospettiva di gioco prospettico ecco questa è un'operazione che viene fatta spessissimo quando si prendono dei video girati in maniera amatoriale con il cellulare viene fatto spesso a questa operazione quando si lavora nei giornali online piuttosto che nei notiziari televisivi no c'è da raccontare un'emergenza bisogna prendere un video fatto con il cellulare da da un testimone o da un giornalista che è sul luogo e magari non si vuole mantenerlo con le barre con le barre nere ai lati anche se abbiamo visto che in realtà non sono delle vere e proprie barre delle vere e proprie barre nere però 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 può essere utile creare dei video dei contenuti direttamente da condividere sui nostri social network preferiti quindi magari noi vogliamo creare un video editare un video da condividere su instagram non vogliamo che sia orizzontale come come quello che vedete davanti ai vostri occhi adesso ma ipotizziamo che voi volete creare un video verticale che sia veramente verticale quindi ipotizziamo che voi girate un video con il vostro cellulare volete editarlo con premier per poi ricondividerlo su facebook o su instagram con una instagram stories come fare ecco quello che ho fatto in questo esempio è creare una seconda timeline questa volta non più orizzontale quindi con le caratteristiche tipiche di un video orizzontale 1920x1080 o 1080x720 ma ho capovolto i valori della risoluzione della mia sequenza in maniera tale da creare una sequenza che ospiti un fotogramma o comunque una serie di fotogrammi un video caratterizzato da fotogrammi verticali ok con le dimensioni dell'altezza e della larghezza invertite come si fa lo facciamo da capo così lo facciamo insieme e vediamo di cosa stiamo parlando torniamo nel pannello progetto creiamo una nuova sequenza ne abbiamo già parlato nella lezione dedicata alle sequenze e alle timeline in adobe premiere quindi o ctrl n sulla tastiera oppure tasto destro del mouse nello spazio vuoto nuovo elemento sequenza ecco che vi viene mostrata la finestra per creare una sequenza ne abbiamo già parlato in abbondanza in uno tutorial precedente quindi su questo punto vado rapido scelgo un preset da cui partire in questo caso io mi trovo molto bene con l'xd cam e x 1080 25 p e questa volta però invece che cliccare sul bottoncino ok e creare la sequenza scelgo la tab chiamata impostazioni la tab impostazioni mi permette di modificare altre opzioni nella creazione di una sequenza le due i due valori che a me interessa modificare sono quelli della dimensione del fotogramma ovvero la dimensione orizzontale e la dimensione verticale però come vedete c'è un problema sono due valori che non sono editabili in questo momento perché perché noi stiamo lavorando su un preset ovvero sulla modalità di montaggio chiamata sony xd cam e x 1080 p hq per poter modificare questi valori a mano e mettere diciamo i valori che noi vogliamo customizzarli basta scegliere un'altra modalità di montaggio nel caso specifico scegliere il primo valore che trovate lungo questa lista che è personale cliccando su personale vedrete che i valori della dimensione del fotogramma orizzontale verticale sono editabili quindi non devo fare altro che invertire questi due campi quindi la dimensione verticale diventa la mia dimensione orizzontale e viceversa quindi crea un una sequenza a mille e ottanta per mille nove e venti ho semplicemente invertito due valori do un nome alla sequenza per poterla riconoscere nel caos delle sequenze che vado creando quindi per esempio la chiamo verticale ma potete dare il nome che preferite mi assicuro che tutto il resto sia a posto quindi che siano pixel quadrati che i campi siano assenti quindi che sia la scansione progressiva e clicco ok ecco che ho creato una sequenza non più orizzontale come la precedente vedete che se tolgo tutto questa è una classica sequenza in hd o una sequenza in verticale e adesso se io vado a prendere il mio contenuto multimediale lo vado a portare dentro la timeline chiaramente qui premier mi domanda se voglio modificare le caratteristiche della sequenza per adattarle alle caratteristiche del video dite spesso e volentieri di no mantieni le impostazioni esistenti e vedete che il mio video che lo ricordo è un video verticale viene inserito dentro la mia sequenza che è una sequenza a questo punto verticale o chiaramente c'è un piccolo dettaglio che questo video è più piccino della risoluzione della mia sequenza no se vi ricordate ho creato una sequenza 1080 per 1920 mentre questo è un video a 720 per 1280 ora il mio consiglio è se lavorate con video che scaricate da internet con una risoluzione non hd full hd è inutile creare una sequenza in hd perché per poter togliere il nero intorno dovrete andare ad allargare il video e adattarlo alla dimensione del fotogramma ricordo che scalare un video e ingrandirlo va sempre a rovinare la qualità delle delle immagini no più ingrandisco chiaramente più vedrò i pixel che caratteri che compongono che compongono il video quindi nel momento che quando si lavora soprattutto con contenuti che arrivano da internet la qualità non è mai eccezionale spesso e volentieri difficilmente troverete dei dei video girati in 1920 per 1080 1080 per 1920 quando create una sequenza createla in funzione al video che state lavorando quindi in questo caso è inutile che vado a lavorare con un video in hd vado a modificare la mia sequenza e la rendo più simile al mio video che sto lavorando quindi in questo caso utilizzerò altri valori che sono quelli del video che sto in questo momento lavorando quindi 720 per 1280 o chiaramente quello che sto dicendo vale a seconda del progetto su cui vi trovate è se vi viene detto di creare un video diciamo in full hd e voi dovete sottostare alle alle richieste che vi vengono però ecco cercate sempre di lavorare in maniera ottimale no è inutile creare e lavorare in 4k se non sia del materiale adatto al 4k per intenderci do ok e ho modificato sostanzialmente la mia sequenza a questo punto il mio fotogramma la mia la mia mia clip video girata in verticale si adatta perfettamente alla mia nuova alla mia nuova timeline che a questo punto è diventata una timeline verticale e quando andrò ad esportare il mio video lo vedremo in un tutorial successivo quando parleremo dell'export non dovrò fare altro che assicurarmi che le caratteristiche della risoluzione siano corrette quindi siano invertite 720 per 1280 dare un nome alla clip scegliere le caratteristiche di export ripeto di cui parleremo più avanti ed esportare a quel punto poi prenderò il mio cellulare e condividerò questa clip su instagram su facebook insomma dove 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 voglio questo per quanto riguarda i video verticali il mio consiglio è chiaramente se lavorate se siete voi gli operatori che maneggiate il cellulare quando lo fate ricordatevi sempre qual è lo scopo del video che state che state girando in quel momento se sapete che è un video che deve finire su instagram su facebook va benissimo girare un video in verticale chiaramente se però il vostro video non sapete se deve andare su instagram o se deve essere condiviso in maniera tradizionale in televisione piuttosto che su youtube ad esempio ecco girate sempre in orizzontale abilitate la rotazione automatica dello schermo e tenete il cellulare non in verticale ma in orizzontale lavorate insomma in maniera in maniera tradizionale per questa lezione è tutto l'appuntamento al prossimo tutorial in cui vedremo sommariamente cos'è e come funziona la stabilizzazione delle immagini in adobe premiere in altre parole detto semplicemente come salvare la vita ad un operatore video che ha la mano un po troppo mossa e parleremo nel prossimo tutorial iscrivetevi al mio canale youtube cliccate su iscrivimi o iscriviti non ricordo come scritto venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it lì c'è l'elenco di tutte le lezioni fatte e anche di quelle che faremo nei prossimi mesi grazie per il sostegno commentate questi video commentate anche sul sito internet se avete domande cercherò di rispondervi nel minor tempo possibile grazie ancora per l'attenzione buon proseguimento ciao